Il professor Giulio Firpo ci tiene questo libro davanti per farci capire anche l'importanza dell'evento che si terrà il 24 settembre alle 17 nella Chiesa di San Domenico. Che cos'è e perché? Questa è l'edizione completa e critica delle laude aretine tardo-medievali di XIV e XV secolo. Le laude erano composizioni sacre prodotte dalle confraternite disciplinate della città di Arezzo. Le principali erano tre, che però avevano un valore non solo religioso, sacrale, ma anche civico e politico perché venivano recitate nelle processioni. Le processioni all'epoca erano eventi che coinvolgevano veramente tutta la città. Quindi si tratta di un lavoro di straordinaria rilevanza prodotto da uno studioso che è il terzo, a quello che mi ricordo io, straniero, di grandissimo livello, dopo Robert Black e Jean-Pierre Delemo, che si occupa di storia medievale aretina. Io credo che per Arezzo sia un momento di grande privilegio e orgoglio avere queste produzioni così rilevanti. Senta, professore, ma perché avete deciso di farla appunto in Chiesa e non all'Accademia Petrarca? Intanto si tratta di composizioni sacre. Quindi la Chiesa, la Basilica di San Domenico, nello specifico, è particolarmente adatta. E poi devo ringraziare Don Luca Lazzari che ha avuto lui l'idea di proporre questo evento in Chiesa.